Salve, un saluto da Robert Matri, 1989 del P, Supercoppa Europea, sesta stagione, attenzione, il Luginante sta dicendo per 4-3 su Porto, e il Porto ha fatto due gol in poco, novantesimo, attenzione, Chiellini la dà per Raffaele, sbaglia Raffaele, attenzione, è finita qui, è finita, il Manchester United dopo la Community Shield, vinta contro il Chelsea, vince la Supercoppa Europea contro il Porto, e andiamo, e diciamo che in questa terza stagione che sono qua, ho già vinto, sì, poco, due FA Cup, tre Community Shield, due Supercoppa Europee con questa, tre campionati, una Coppa di Lega, due Champions League, no, niente di che, dai, sono trofei importanti, ah, poi c'è anche da dire che con la Roma non vinci niente, ma quando ero l'Atletico Madrid ho vinto la, cos'ho vinto con l'Atletico Madrid, la Coppa del Rey, mi sembra, invece con Valencia ho vinto la Champions, il campionato, eh, no, perché adesso sto diventando un allenatore, come si dice, un allenatore europeo, un allenatore molto europeo, che vince in Europa, soprattutto, e poi ragazzi c'è da dire che è anche uno squadrone adesso, eh, cioè adesso, spero che avete già visto la rosa, la formazione, ma adesso vedete un attimo una parte, la formazione, ed è ancora però, la Supercoppa Europea, vinta dalla Manchester United, da, per 4-3, danni del FC Porto, vinta da me, allora, guardate, qui si chiama, è la formazione, ovviamente sono usciti loro, eh, il gol, ne ha fatto, loro 0, ne ha fatto, uno a Ronay, uno a Ronaldo, uno a Robinho, una 0, scusate, da loro, sì, uno a Varelo, uno a Gianna Martinez e l'altro club, abbastanza bravo, faccio vedere il gol del 4-3, di United Porto, finale Supercoppa Europea, al, al secondo, subito, ci pensa, sembra lui, CR7, in questo caso però CR12, e 1 a 0, poi all'undicesimo, Eden Hazard, si libera, prova un destro, ed entra, 2 a 0, al quarantesimo, Ulc, la chiude, al quarantesimo, Ulc, prova a chiuderla, e fa un gran gol, 3 a 0, però, sembra chiusa, ma, scusate, eh, ma al cinquanta settesimo, arriva il gol, che sveglia un po' il porto, Varela, c'è un bug, ragazzi, c'è qui Varela, passaggio in mezzo, per Varela, ecco, quello là è la guarini, si vede, al 69esimo però ci pensa Robinho a chiuderla, definitivamente ancora, 4 a 1, ma ci pensa all'ottantesimo, Klubber a riaprirla, 4 a 2, il gol del 4 a 2 per il Porto, dormite in difesa per lo United, qui c'è Klubber, un bug, e poi, attenzione, all'ottantesimo, il quattro settesimo, il quattro settimo, che promette un po' porto all'United, di Martinez, l'unterrò è qui di Fabio, che supera, che è poi da un passaggio per Martinez, però, l'United riesce a vincere, grazie, hai, 4 gol, di 1 Ronaldo, 1 Hazard, 1 Hulk e 1 Robinho, grazie, un saluto per Robert Fumato, e me lo chiedete a loro dentro, voi lo scrivete, l'United vince il Supercopolo Europeo, sono i miei quarti di trofei, ci vediamo per la settima stagione, ciao amici, se no, per il trofeo che vinto.